Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivi Centro Network, direttore Mario Vollonu. Polizia ferroviaria, operazione Summer Clean Station, controlli intensificati in particolare nelle 10 principali stazioni ferroviarie del paese disposti dal capo della polizia Franco Gabrielli con l'operazione Summer Clean Station. L'operazione, avvenuta dal 2 all'8 agosto, ha avuto lo scopo di innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie soprattutto in questi giorni di partenze per le vacanze. Identificati 32.305 persone, 19 arrestati, 185 indagati, 199 le sanzioni elevate, 37 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità e 44 i cittadini stranieri sul territorio nazionale irregolari. Le stazioni interessate, Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova Principe, Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale, Palermo Centrale, Venezia Mestre, Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella.